che la ragazze bentornati in questo nuovo video di nuovo electric studios allora questo è un piccolo blog che dura pochi minuti dove vi spiego alcune cose che sono successe e che succederanno allora sono felice di annunciarvi che siamo arrivati ai 61 iscritti e questo significa ne mancano veramente pochi per arrivare a 100 e attivare il concorso cosa consiste il concorso ai 100 iscritti due di voi tra gli iscritti che guardo vedrò chi c'è di scritto due di voi verranno scelti per fare un video con me o minecraftita o una challenge quindi vediamo e vinceranno poi inoltre la maglietta del canale quindi poi contatterò i vincitori personalmente contatterò in privato mi dovranno dire la taglia che portano e io penso provvederò a fargli le magliette poi fisseremo un giorno e quindi ci troveremo non vi preoccupate se volevate vincere il concorso e non lo vincete perché praticamente questo concorso verrà ripetuto questa prima volta è stato 100 iscritti prossima volta ogni 200 iscritti quindi prossima volta sarà a 300 iscritti verrà riattivato il concorso e altri due di voi verranno scelti io comunque mi segno chi ho sentito poi se quello lì che ha già fatto il video con me e l'ho già sentito vuole fare un altro video con me me lo scrive in privato o su un commento me lo scrive su un commento in privato su messenger o dove volete anche facebook così e fissiamo un giorno o lo contatterò io e lo inserirò in un video come ospite speciale ok quindi per questo primo avviso è tutto poi volevo ringraziare anche nicky boy e matt con cui abbiamo iniziato una leggera collaborazione e big boy e matt hanno iniziato a farmi vedere un attimo come si fanno delle copertine a farmi un paio di copertine che le vedrete prossimamente e li ringrazio veramente tanto perché sono veramente bravi e vi consiglio di iscrivervi vi lascio comunque nei descrizioni il loro link del loro canale altra cosa che mi sono successe allora è successa una roba diciamo non proprio bella perché giovedì scorso c'è stato un piccolo incidente con l'auto e mi è scoppiata una gomma si è forata una gomma e quindi diciamo sono rimasto a piedi che poi comunque ho chiamato il carro attrezzi il gommista sono venuti abbiamo sistemato il problema parta lì abbiamo finito la macchina ora funziona le gomme sono nuove perché erano veramente consumate e dovevamo cambiarle e vabbè hanno fatto un piacere a scoppiare quindi poi sono andato su in montagna ho fatto una piccola vacanza dove non prendeva niente e appena tornato giù nel campo di rete del mio telefono mi sono arrivati tanti di quei messaggi che non avete idea il mio telefono stava veramente scoppiando ci mancava un po' che facesse fumo così anche lui chiudeva punto e fine e vabbè poi rimaneva solo sto computer che anche lui ormai poveretto ai suoi anni e dovrà essere cambiato ma lo cambieremo cioè lo cambieremo aggiungendone uno nuovo praticamente io sto programmando di prendermi un fisso abbastanza potente con scheda grafica medio processore dovrebbe essere adesso non ricordo cosa è ma è equivalente a un i5 quindi per me va più che bene e forse mi prendo una versione con l'SSD adesso vediamo bene o mai mi informo poi vedo i costi e tutto quindi a breve quando avrò il computer nuovo inizierò a come dire ad aggiungere un sacco di novità mod riguardo minecraft inizierò la skyball skyblock scusate skyblock che non vedo l'ora di cominciarla perché è veramente bella poi farò anche inizierò le bad wars altre sfide che mi metterete voi magari nei commenti tipo altre mappe se volete che faccio mappe di minecraft tipo che ne so mappe horror assassin's creed o altre robe scrivetelo nei commenti poi altre cose che mi viene in mente tra breve uscirà anche una challenge la nostra prima vera challenge seriamente fatta seriamente e non sul momento ci stiamo organizzando già da più di una settimana con questo challenge quindi speriamo che vada tutto bene augurateci una buona fortuna una buona challenge io vi auguro una buona giornata una buona settimana buon lavoro per chi lavora ricordo del concorso ormai veramente manca pochissimo quindi questione di attimi di secondo me questione di qualche mese se no addirittura un mese basta e quindi qua è tutto dai vi ricordo io vi saluto vi ricordo di iscrivervi lasciare commenti condividere i video che vi sono piaciuti condividere il canale se volete vincere il concorso poi se continuate a seguirmi potete vincere anche gli altri concorsi lasciate commenti su challenge o eventuali mappe di minecraft o altri video che posso che volete che faccia vi lascio con il mio solito saluto elettrizzante un saluto e ciao